Buonasera a tutti, questa sera continuiamo il nostro cammino all'interno dei capannoni della Fondazione Marazzato andando a vedere altri mezzi e vi ricordo che siamo nelle porte aperte di marzo scorso, come vi avevo pronunciato nel video scorso andremo a vedere questa moto che io reputo fascinante, bellissima, stupenda, meravigliosa e andiamo a vedere di che moto stiamo parlando, comunque la prima impressione è che stiamo parlando di una moto da corsa secondo appunto le forme ed è una moto Rumi che ha soprattutto due particolarità che adesso andremo a vedere, la prima è che vedete che nei fianchi del serbatoio sono stati ricavati questi due incavi che permetteva ai piloti di rannicchiarsi quindi di prendere una posizione di guida aerodinamica. L'altra particolarità è che aveva il sistema di scarico, vedete qui sotto, detto a megafono. Comunque cosa possiamo dire? La moto Rumi è un'azienda nata a Bergamo negli anni 50 dal genio e dall'estro di Donnino Rumi che grazie alla soluzione tecnica all'avanguardia e lui nelle sue moto posizionava i cilindri in maniera in posizione appunto orizzontale anziché in verticale e aveva i carter motori tagliati. Una soluzione tecnica adottata, copiata dai giapponesi per le loro moto. Quindi dicevo che grazie al suo estro questa casa motociclistica divenne famosa, rinomata, ma soprattutto anche per le moto che erano ritenute con elevate prestazioni. Questo che vediamo è un modello che si chiama Gobetto, Rumi Gobetto Competition SS, dal nome dei famosi carburatori dell'orto del 1954, una seconda serie ed è un 125cc. secondo le mie ricerche questa moto sfiora i 40 mila euro. Andiamo a vedere altre moto che sono presenti all'interno dei capannoni. Vedete queste tre moto qui che fanno parte tutte della stessa casa che è la Lambretta. Ho pubblicato un video per quanto riguarda la storia della Lambretta, andate a guardarvela, a sentirvela perché è molto particolare e strana anche come è nato il marchio Lambretta, eccetera. Comunque, andiamo a vedere questa moto qui, questa Lambretta. Questa è, secondo le mie ricerche, il modello 150D, che è l'evoluzione del modello C, che nel 1951 aveva un motore da 125cc che poi fu portato nel 1954 a 150cc. La particolarità di questa Lambretta, di questa moto, è che aveva ammortizzatore posteriore idraulico. Andiamo a vedere quest'altra moto, questa la conosciamo, questa motocicletta, è la Lambretta Lui 50. Abbiamo parlato abbondannamente quando ho parlato della Lambretta Piazza, che fu prodotta per impensierire la Vespa della Piaggio. Infatti aveva soluzioni tecniche simili a quelle della Vespa. Infatti aveva il cambio a tre marce che venivano azionate con la manopola sinistra. E poi qui sulla pedana, vedete a destra, c'era questa pedivella che schiacciandola insomma azionava il freno posteriore. La particolarità di questa motocicletta, di questa Vespa insomma, è che il progetto fu affidato, udite udite, alla grande, bella, grossa e intramontabile carrozzeria Bertone, quella che ha dato le forme alla Lamborghini Miura, alla Lamborghini Countach, alla Lancia Stratos. E poi andiamo a vedere quest'altra Lambretta. Questa è una 48cc, è del 1958, perché è una seconda serie. La particolarità che aveva le ruote da 22 e, altra particolarità ancora, un po' come la Motum che abbiamo visto in un video precedente, aveva il telaio in lamiera stampata. Ecco, poi andiamo a vedere questa foto qui che ci sta, ci apre il mondo delle isottafraschine, avremo tantissimo da dire, quindi dal prossimo video parleremo delle isottafraschini perché ha oltre 100 anni di storia, quindi avremo tante cose da vedere e tante cose inaspettate, perché guardando le foto, insomma, che erano lì affisse, no, sui muri, insomma, sulle grate, eccetera, non mi sarei mai aspettato che le isottafraschini, oltre ai camion, avesse fatto tanto altro. Quindi lo vedremo insieme, mano a mano, perché veramente ci saranno tante belle e gradite sorprese che le isottafraschini ci ha mandato, tramandato, insomma, fino ai giorni nostri. Quindi non mancate del prossimo video perché ne vedremo veramente di bellissime. Io intanto vi saluto, come faccio di solito, con un abbraccio affettuoso, ci vediamo al prossimo video. Ciao!